oggi parliamo di reti da slow feeding lo so che ne ho già parlato tante volte ma ci tengo tanto un argomento per me importante cioè vorrei veramente che molte persone prendessero in considerazione questo tipo di alimentazione e quindi anche in questo video vi spiegherò perché per me è così salutare per un cavallo mangiare mangiare dalla rete i problemi dello stomaco coinvolgono circa l'ottanta per cento dei cavalli scuderizzati che è veramente tantissimo cioè è una percentuale altissima di cavalli nelle scuderie e molte persone non si fanno delle domande del perché è così probabilmente molte persone neanche lo sanno insomma questo però è dovuto a fattori come lo stress in primis soprattutto se si tratta di cavalli che fanno sport a alti livelli e molto a una gestione che poco si avvicina alle loro reali esigenze tra queste esigenze sicuramente c'è un giusto movimento anche in libertà la possibilità di socializzare con i loro simili e l'alimentazione quindi tra gli errori gestionali più comuni appunto c'è l'alimentazione perché solo alimentandoli in maniera corretta si può risolvere quasi il 90 per cento dei problemi gastrici che è tantissimo è veramente tanto quindi risparmiare molti soldi di farmaci integratori per lo stomaco secondo me i farmaci che vengono acquistati dai proprietari per lo stomaco per la gastrite sono quelli che veramente incidono di più alla fine del mese sui conti per un cavallo sportivo una corretta alimentazione le aiuterebbe ad essere più sereni di sicuro e anche appunto più performanti perché un cavallo sportivo non può dare il massimo se non viene alimentato correttamente e questo è abbastanza scontato l'alimentazione ve ne parlo sia in termini di concentrati che di fibra quindi per quanto riguarda i concentrati devono essere adeguati sia nelle quantità che nella scelta del tipo di mangime per concentrati intendo appunto il mangime o quello che tanta gente chiama fioccato che poi nella maggior parte dei casi è proprio mangime cioè nel senso che un insieme di cereali a cui vengono aggiunte delle integrazioni però non potete pensare di dare a un puledro appena svezzato lo stesso mangime che dareste a un cavallo di 25 anni a riposo o lo stesso mangime che dareste a un cavallo che lavora tutti i giorni e che comunque viene viene sfruttato per fare per fare dello sport quindi la quantità di cereali di mangime deve essere peraltro divisa in più pasti nel corso della giornata proprio perché lo stomaco come vi ho già magari detto in altri video e nelle dirette che faccio di solito lo stomaco non è piccolo, lo stomaco del cavallo in proporzione alla mole del cavallo è piccolo e quindi fa fatica a digerire razioni di concentrati troppo importanti, cioè troppi concentrati tutti insieme lo stomaco proprio non è concepito per digerire troppi cereali tutti assieme allora che cosa succede? Che non vengono proprio digeriti e che quindi si acidifica molto l'ambiente dello stomaco e gli cereali non digeriti passano nell'intestino e questo anche a livello intestinale si ha proprio un'alterazione che poi dopo vedremo più avanti e la fibra? La fibra è importantissima, infatti il fieno è l'alimento più importante per i cavalli ricordatevelo sempre, potete stare indietro con i cereali ma non con il fieno il fieno dovrebbe essere sempre somministrato di buona qualità questo è fondamentale perché risparmiare sul fieno è il peggiore errore che potete fare sia in termini di qualità nutrizionale appunto del fieno e che del fatto che magari ha delle muffe, magari ha della polvere questo predispone i cavalli a sviluppare tantissimi problemi di natura respiratoria i cavalli diventano bolsi se mangiano il fieno cattivo con tanta polvere e soprattutto deve essere nelle giuste quantità perché se è troppo poco non va bene questo perché lo stomaco non deve rimanere vuoto troppo ore consecutive questo è importantissimo perché il pH gastrico non si deve abbassare troppo perché quando il pH, quindi l'acidità dello stomaco si abbassa troppo cosa succede? L'acido gastrico corrode letteralmente la mucosa dello stomaco ed è qui che originano proprio le gastriti e le ulcere dare il fieno contato anche tre volte al giorno è spesso insufficiente per mantenere lo stomaco e l'intestino al meglio delle loro funzionalità una scarsità di fibra nella dieta assieme appunto a un eccesso di cereali come vedevamo prima sono all'origine della maggior parte dei problemi di stomaco dei cavalli e in più li predispone anche a sviluppare, ad avere le coliche intestinali questo perché si ha una sofferenza del microbiota intestinale cioè se si hanno queste modificazioni a livello del pH intestinale dovuto appunto al fatto che comunque il materiale indigerito dallo stomaco passa all'intestino, cosa succede? Che l'insieme appunto dei microorganismi buoni quelli che fanno parte del microbiota che sono deputati alla digestione della cellulosa e alla salute dell'apparato digerente vanno in sofferenza e poi muoiono utilizzando le reti da solo feeding per la somministrazione del fieno tutte le reti, non solo quelle che vendo io ovviamente ci sono reti più solide, reti meno solide fatte meglio, confezionate meglio, confezionate peggio con i buchi più grandi, con i buchi più piccoli ovviamente io ho fatto una scelta a seconda delle mie necessità e a seconda di quello che noto o siano quelle che sono per me le necessità dei cavalli che ho qua in clinica però utilizzando queste reti cosa succede? Che il cavallo è obbligato a mangiare più lentamente la sua razione di fieno e quindi si mima il comportamento che avrebbe in natura perché in natura come molti di voi sanno i cavalli mangiano quasi sempre quindi mangiano poco perché mangiano l'erba brucano e quindi mangiano poco non si abboffano e spesso quindi mangiano quasi 18 ore al giorno facendo in questo modo lo stomaco non rimane mai vuoto troppo a lungo e quindi il cavallo anche se rimane nel box io odio i cavalli che stanno nel box tutto il giorno però purtroppo anch'io devo affrontare questa cosa lo so che molti cavalli purtroppo vivono la maggior parte della loro vita chiusi tra le mura di un box quindi almeno diamogli la possibilità di non annoiarsi diamogli la possibilità di mangiare per molte ore al giorno il fieno però senza aumentare la razione la loro razione mangiata più lentamente in questo modo si annoiano di meno vi ricordo che la noia è la base dell'origine di molti vizi comportamentali dei cavalli come può essere il tic d'appoggio e il ballo dell'orso questi sono vizi che purtroppo i cavalli una volta che cominciano una volta che li sviluppano poi non se ne liberano più cioè è una cosa che poi faranno per sempre e condizionerà molto la vita di un cavallo cioè avere il tic d'appoggio per un cavallo è un problema enorme perché si consumano i denti e poi non masticherà più bene perché i cavalli col ticchio tendono a ingorgitare aria e questo li predispone comunque ad andare in colica soffrono generalmente appunto di gastrite e quindi è importantissimo limitare al massimo tutto quelle che possono essere le cause che generano questi tipi di problemi la possibilità per un cavallo di mangiare la propria razione di fieno all'interno di una rete oltre che a non stressarlo assolutamente anche se tanta gente mi contesta il fatto che in natura i cavalli mangiano da terra e che dalla rete invece non mangiano da terra è vero, questo è vero però sicuramente sono più i pro che i contro io le ho qua in scuderia tutti i box qua in clinica hanno le reti vi assicuro che non c'è nessun cavallo stressato peraltro mangiano lontano dal suolo per cui lontano comunque dalla lettiera che per quanto sia pulita è comunque una lettiera che la mattina puzza di urina perché i cavalli comunque ci stanno per quanto siano pulite ma non saranno mai così pulite da non puzzare di urina per niente ma insomma purtroppo e quindi un cavallo in questo modo sicuramente è aiutato a stare meglio sia fisicamente perché appunto mangia lentamente lo stomaco sta meglio, anche l'intestino sta meglio che mentalmente perché appunto si annoia di meno quindi con le reti da slofini si imita il comportamento alimentare che avrebbero in natura i cavalli e peraltro è positivo anche per noi perché usando le reti si spreca molto meno fieno infatti il fieno che non viene mangiato perché succede insomma ai cavalli soprattutto se gli date tanto fieno non è che magari se lo mangiano sempre tutto e normalmente il fieno che non viene mangiato finisce sotto i piedi magari ci fanno la pipì sopra ci fanno la cacca sopra invece in questo caso il fieno non finisce sotto i piedi del cavallo ma rimane nella rete e quindi può essere mangiato in un secondo tempo senza inutili sprechi questo ve lo dico proprio col cuore perché i primi anni quando non usavo le reti al mattino quando facevo il box vedevo partire questi carri dove c'era sì la lettiera sì le feci sì di tutto ma anche tantissimo tantissimo fieno e questo mi faceva veramente male al cuore adesso per fortuna non ne sprechiamo più anche perché il fieno è costoso e soprattutto se è buono sprecarlo veramente è veramente un peccato ti chiedo di provare anche tu una rete anche delle nostre reti ti chiedo di provare le nostre reti per quale ragione perché le abbiamo fatte fare con tutti i crismi cioè sono reti fatte bene sono fatte a mano sono fatte in Italia sono solide il cavallo non le rompe facilmente e appunto hanno sono rinforzate e con i buchi della misura giusta quindi viene favorita la soluzione del fieno senza alcuna difficoltà per il cavallo tanta gente mi dice anche questi buchi sono piccoli no non potete fare delle voragini non potete comprare delle reti con dei buchi enormi perché allora si perde si perde assolutamente quello per cui la rete serve insomma il fatto che il cavallo rallenti la soluzione del fieno se gli fate i buchi troppo grossi non rallenta proprio niente le nostre reti le trovi sul nostro e-commerce insieme a moltissimi prodotti interessanti che cerco di mettere su spesso per insomma cerco di trovare dei prodotti destinati alla salute alla salute del cavallo e al benessere del cavallo per cui dai un'occhiata al nostro sito prova una rete comprare magari solo una provala e vedrai che ti troverai benissimo perché le reti da slow feeding secondo me sono in questo momento l'unico modo veramente concreto per aiutare i cavalli a ridurre i problemi gastrici e i problemi di noia nel box ti saluto e ci vediamo nel prossimo video